Per la legalità e la sicurezza sarà istituito un sottocomitato che interverrà in decisioni tecniche e che si riunirà ogni settimana. È stato deciso oggi dal sindaco Ignazio Marino e dal prefetto Pegoraro durante il comitato di ordine e sicurezza. Ci sarà un sottocomitato e ogni componente effettivo del comitato desiderà un rappresentante che pianificheranno dei interventi per la sicurezza della capitale nella città. Io ho espresso le mie preoccupazioni che sono pienamente condivise dal signor prefetto e dalle altre forze dell'ordine. Noi attraverso gli sforzi della Polizia Municipale possiamo fare una parte, ma abbiamo la necessità che tutto questo lavoro venga coordinato in modo che attività come l'illegalità, l'abusivismo, il borseggio, la prostituzione possano essere controllati e prevenuti con il lavoro comune di tutte le forze dell'ordine. Si è discusso anche del derby che si disputerà domenica alle 15 per la quarta giornata di campionato. Saranno attuate le stesse norme di sicurezza della finale di Coppa Italia. La riunione di venerdì servirà comunque a raffinare l'organizzazione e a prendere le ultime decisioni su zone rosse o agenti impiegati. Verranno messi in atto tutti gli strumenti possibili per evitare che ci siano violenze di qualunque tipo in modo che sia una giornata di festa, di gioia, di sport. Del derby? Noi segnali particolari non ne abbiamo. Mi sembra che entrambe le squadre stanno andando bene, per cui ci sono tutte le condizioni per assistere a un derby tranquillo sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e soprattutto molto interessante sotto l'aspetto sportivo agonistico. Io posso aggiungere che prendo un esempio dal comportamento corretto dei pubblici di San Vadorio a Genova. È stato un derby, al di là del risultato, che ha scontentato una parte dei tifosi. Comunque, su tutti gli aspetti, perfetto. Sono aspetti dell'ordine pubblico. E mi auguro che la stessa cosa sia domenica 22 settembre. Lazio-Roma è uno degli eventi più importanti della capitale e quindi ci sarà quel dispositivo che l'evento importante richiede.